Di solito sono le start-up a presentarsi ad un incubatore, a proporre il loro progetto perché venga appunto incubato e sviluppato e a sperare poi che un giorno arrivi un'azienda interessata a investire o addirittura ad acquistarlo. A infinite area, uno spazio polifunzionale nato a Montebelluna, vicino Treviso, succede invece esattamente il contrario. È l'incubatore che raccoglie le esigenze di innovazione delle aziende e si mette a cercare i talenti in grado di poter soddisfare quella domanda attraverso la creazione di un progetto dedicato. Se poi il progetto funziona, il team può diventare una start-up o entrare nell'azienda da cui è partita la richiesta. A raccontarci com'è nata l'idea di questo incubatore appunto capovolto è il suo ideatore, l'imprenditore Patrizio Boff, benvenuto a Economy Up Patrizio, che è anche il fondatore e il presidente della Software House Pat, quindi un imprenditore del settore digitale. Con lui, alla mia sinistra, c'è Fabio Biancotto che è l'ICT Director di Airdolomiti, la compagnia del gruppo Lufthansa, che è il primo cliente di infinite area, cioè la prima azienda che ha avanzato una richiesta di innovazione e di cambiamento. Ecco, Patrizio, com'è nata l'idea di questo incubatore che abbiamo definito capovolto? È nata non recentemente, è un pensiero che si è mutato negli anni, partendo da un concetto di osservazione di quello che è il mercato, di quello che sono i risultati che ci sono, soprattutto nell'ambito digitale, da una consapevolezza che il vero paziente malato, e l'abbiamo subito tutti, sono state le imprese, quindi è un paziente che deve essere ovviamente curato, e per curarlo dobbiamo introdurre dell'innovazione, ed è un altro aspetto che è legato anche a quello che è il territorio e quello che è il futuro che noi vogliamo lasciare, quindi anche da un aspetto di tipo sociale che vogliamo migrare, e per ultimo ovviamente un po' di sana pazzia, perché per fare una cosa di questo tipo, come dice spesso anche mio amico, non te l'ha ordinato il dottore perché l'hai fatto, io credo che sia, a un certo momento della vita, anche il momento di fare qualcosa. Un po' di follia dizionaria dell'imprenditore. Ma direi che è il giusto ingrediente che hanno tutti gli imprenditori, quindi diciamo è normale. Ecco, dov'è infinite area? Perché avete recuperato un capannone industriale, dov'è e che cosa fa esattamente? Allora partiamo dal luogo, in primis, partiamo dalla ex locomotiva d'Italia, quindi nord-est, partiamo dal fatto che ovviamente questa locomotiva è una locomotiva che ha risentito pesantemente, che più che meno ovviamente, della trasformazione della situazione che si è creata nel tempo. E partiamo dal fatto che il capannone è l'espressione naturale dell'economia e dell'industria degli ultimi vent'anni o trent'anni, a seconda ovviamente del settore appartenenza. Il capannone, la trasformazione del capannone in un qualcosa che era quasi una disgrazia avere la proprietà, in una situazione invece completamente innovativa, in un luogo che non esiste, in un luogo in cui stimoliamo costantemente le persone, è stato il primo passaggio. Il secondo passaggio importante per noi è stato quello di introdurre una carlinga di un aereo. Cioè avete portato dentro un aereo? Assolutamente, ma non un aereo a fine vita, Giovanni, ma un aereo a inizio vita. E' stata una ricerca veramente pesante questa. E perché all'inizio della vita? Allora intanto il concetto dell'aereo. L'aereo è l'innovazione, diciamo così, e la conquista, la ricerca dell'uomo. La realizzazione di un sogno, volare. Assolutamente. Ed è un sogno in cui molto della nostra innovazione, molta nostra tecnologia passa per il settore aeronautico in primis. E poi noi ovviamente caliamo e ci ritroviamo a utilizzare tecnologie o evoluzioni. Ecco, è stata una previsione. Perché in qualche modo poi il primo cliente è stata una compagnia aerea. Diciamo che è stata una previsione, come hai detto bene tu, facile. Perché ovviamente puoi raccontare una compagnia. Ma adesso magari anticipo forse qualcosa che dirà Fabio. Questa cosa è stata talmente una previsione che sono stati contattati da n altre compagnie che sono in attesa dei risultati che stiamo realizzando con loro ovviamente supporto. Fabio, spiegaci tu come funziona lavorare per un'azienda, lavorare con infinite area. Cioè che cosa avete fatto voi altri fino ad oggi? Ma innanzitutto noi in infinite area abbiamo trovato la risposta a una nostra esigenza. Avevamo ben chiaro qual era l'obiettivo che volevamo raggiungere, però ci mancava, passami la semplificazione, il materiale umano. Cioè il talento. L'obiettivo era fare customer intelligence. L'obiettivo era fare customer intelligence, ma soprattutto anche cercare qualcuno che ci desse degli spunti per innovare e per trovare delle cose nuove da poter inserire in un settore che come ben sai ha bisogno di continua innovazione. Quindi avete fatto una call? Abbiamo fatto una call con infinite area per cercare un team di persone che ci desse risposta a quelle che erano le nostre esigenze di migliorare la nostra customer experience, ma dall'altra parte anche come ti dicevo c'è trovare qualcosa che ci desse una marcia in più rispetto agli altri. E questo è un po' quello che ci aspettiamo dal fiorire da questi talenti. Ecco, quindi da qualche settimana sono due giovani under 30 che stanno lavorando su questo progetto. Sara e Daniel. Stanno lavorando su questo progetto, adesso sono nella fase iniziale di analisi di quelle che sono le nostre esigenze specifiche perché il settore del trasporto aereo è un settore molto complesso, sia dal punto di vista della quantità di dati, dell'analisi dei dati, per cui stanno approcciando in maniera molto dettagliata tutte le fasi che seguono la vendita dei nostri servizi e dopodiché lavoreranno una nuova metodologia per cercare appunto di migliorare la customer experience dei nostri passeggeri e dei nostri potenziali passeggeri perché il nostro obiettivo è anche quello di cercare di attrarre il più possibile anche nuovi passeggeri. Prevedendo le loro domande e le loro esigenze? Prevedendo le loro domande, prevedendo le loro esigenze, ma soprattutto anche dando dei servizi nuovi, dei voluti che al momento diciamo sul mercato non ci sono. Non ci sono. Ecco, che cosa potrà accadere alla fine dei sei mesi che dura il progetto? Il percorso potrebbe in qualche modo continuare, nel senso che queste due persone potrebbero o dar vita ad una start-up, oppure che potrebbe essere finanziata da Ardolomiti o che potrebbe essere finanziata anche da altre società, oppure Ardolomiti potrebbe decidere di assumere queste due persone perché magari ritiene molto strategico quello che è il risultato del loro lavoro e di conseguenza potremmo anche decidere di assumerle. Ecco, per un uomo ICT come te è un'esperienza veramente di grande apertura rispetto ai modelli tradizionali? Sì, anche perché qui stiamo andando un po' fuori da quelli che sono i paradigmi standard, perché potevamo cercare un ottimo CRM sul mercato, ce ne sono tantissimi, ma il nostro obiettivo era quello anche di differenziarci rispetto a quello che fanno tutti gli altri, per cui sicuramente è una grande apertura. Allora, Sara e Daniel stanno lavorando sul progetto Ardolomiti, ma c'è qualcos'altro in pista pronto a decollare? Assolutamente, questo clamore che ha avuto, come hai detto tu, l'incubatore al contrario è stato colto in maniera molto positiva da parecchie aziende che vedono l'innovazione in termini di spin-in e di contaminazione e quindi diciamo un laboratorio di ricerca di nuove idee, di nuove business unit, di nuove metodologie effettuate all'esterno su un ambiente stimolante e soprattutto con dei modelli, perché non dimentichiamoci, prima ti raccontavo della struttura, ti raccontavo dell'aereo, ma ovviamente uno dei punti di forza che noi abbiamo è il team che ha ideato e ha progettato la metodologia per raggiungere questo tipo di scopo. Quindi abbiamo un PhD all'interno, abbiamo un team coordinato per quanto riguarda questo tipo di attività, abbiamo un affiliate all'Istituto for the Future di Palo Alto, che come ben sai è un istituto importante che esiste da 50 anni e che prevede i prossimi 10 o 20 anni, quindi fanno previsione di questo termine, non dal punto di vista numerico ma dal punto di vista di strategie e per un'azienda che deve innovare, che tipicamente ha un processo medio-lungo di adozione a questo tipo di attività, è importante. Quindi per i prossimi mesi possiamo prevedere altre call che possano coinvolgere altri giovani? Assolutamente, io spero di essere qua con te anche a breve, prima dell'estate abbiamo degli obiettivi sfidanti ma anche molto concreti che per questione anche di riservatezza non raccontiamo, dimentichiamoci che avendo a che fare con imprese, alcune imprese come Ardolomiti hanno una visione e ci tengono anche a dare la giusta innovazione, la giusta visibilità a quello che loro fanno, così come è giusto, altri invece ritengono che questi tipi di settori, questo tipo di attività sia un'attività che va comparata alla ricerca e sviluppo e quindi diciamo dipende molto dal tipo di settore che ovviamente poi andiamo a toccare. Vi specializzerete in un settore in particolare o spazierete un po' in punti? Allora, quello che sta succedendo è che quello che noi usiamo di più è un po' partendo dalla logica appunto dell'open innovation, quindi contaminazione di differenti culture e questo è un po' la chiave di volta. Abbiamo un progetto in corso, per citartene uno, in cui l'imprenditore ha capito che con il suo team di ricerca e sviluppo ha un prodotto eccellente, sono leader nel loro settore ma che non riescono ad andare oltre, cioè il loro team non riesce a vedere oltre e ci ha chiesto di contaminarli in maniera esterna quindi diciamo forzando proprio questo tipo di attività e di stimolazione anche mentale delle loro persone ospitandole appunto anche nel luogo per cercare di parlare di interazione con sistemi. Ma stai parlando di BNL? No, BNL direi che merita un'osservazione particolare, uno perché ovviamente è una banca e quindi diciamo il cambiamento per una banca, anzi mi prendo magari il loro pay off che dice una banca per il mondo che cambia, come dicono loro, questo è stato sicuramente una sorpresa molto positiva che una banca comunque italiana ma in realtà francese o una banca comunque internazionale sposasse fin da subito ai massimi livelli questo tipo di progetto. Ricordiamolo che BNL ha deciso di aprire un suo ufficio all'interno di infinite area che cosa fa questo ufficio di BNL? Ma allora non sono promotori finanziari, quindi smarchiamo subito. Non cercano clienti? No, non cercano clienti, loro cercano di innovare e di stimolare gli imprenditori che vogliono fare innovazione, quindi hanno capito prima di altri secondo me di cui abbiamo raccontato, che finanziare l'innovazione vuol dire finanziare doppiamente il loro futuro uno perché stimola un'azienda a crescere e quindi li supporto e poi diventano trust di business, ma non trust nel termine finanziario diventano degli certificatori che il lavoro che viene fatto è il lavoro di qualità. Abbiamo tre regole all'interno di infinite area che abbiamo voluto condividere fin da subito con tutti quelli che hanno e collaborano con noi, che hanno a che fare con noi. La parte di etica, perché bisogna che ci ricordiamo dei nostri giovani e spesso i nostri giovani molto bravi sono illusi del loro futuro. Faccio l'esempio che citava prima Fabio, i giovani sanno da noi esattamente quello che poi succederà ovviamente se lavoreranno in qualità, perché se questo non succede ovviamente non avranno successo né con una start-up né con qualsiasi altro tipo di lavoro ma avranno la certezza di avere un posto di lavoro. E questo è il primo aspetto. Il secondo? Il secondo aspetto è la qualità di quello che vai a fare. Oggi se leggiamo i giornali e seguiamo anche le tue trasmissioni ovviamente sembra un mondo che cambia, ricco di start-up o quant'altro. Sai benissimo che la qualità di queste cose ovviamente è solo una parte minimale di quello che viene poi presentato. E quindi questo è importante. La terza invece? Il risultato. Noi siamo un'azienda privata, è stato un sogno come ti ho raccontato non solo legato all'aviazione, siamo un'impresa privata, dichiariamo che siamo un'impresa privata e noi vogliamo avere un commitment sui risultati che otteniamo. Quindi questo si va avanti se si ottengono dei buoni risultati in nome dell'etica e della qualità. Assolutamente, io credo che sia un buon ingrediente. Tu cosa dici? Assolutamente, grazie, buon lavoro a te Fabio e Romiglia e buon decollo.